Musica Buona domenica e benvenuti al consueto riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 18 gennaio. Sicilia sversata dal maltempo, vento gelido e tanta neve anche a bassa quota. Disaggi in tutta l'isola, scuole chiuse sulle madonie e voli sospesi da Epper Lampedusa e Pantelleria. Così come annunciato nei giorni scorsi, una vera e propria tempesta polare sta imperversando in queste ore al centro-sud Italia colpendo in pieno la Sicilia. Le temperature sono crollate in tutta l'isola con forti venti settentrionali che nel canale di Sicilia hanno superato i 90 km orari e che sono particolarmente intensi nei settori occidentali tra il palermitano e il trapanese. Il maltempo invece è nel nord dell'isola e nelle zone centrali con intense nevicate fino a bassa quota. Sulle madonie e nebbro di Peloritani ed Etna le temperature sono abbondantemente scese sotto lo zero. Neve anche alle isole Oli e sullo Stromboli. L'arcipelago è completamente isolato a causa del forte vento e del mare in tempesta. Le nevicate stanno creando dunque numerosi disagi. Scuole chiuse oggi in tutto il comprensorio delle alte madonie. Gangi, Geraci Siculo, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Polizia Generosa, San Mauro Castelverde, Blufi, Bonpietro e Alimena. Ma anche in paesi collinari come Castelbuono. A pieno battaglia dove la neve ha raggiunto il metro un automobilista è stato soccorso dai carabinieri. Pochi mezzi spalaneve e spargisale dell'ANAS per fronteggiare l'emergenza. L'ospedale di Petralia è sotto la neve così come la pista di Elisocorso. Neve anche alle porte di Palermo, Monte Cuccio e le vette più alte della Conca d'Oro sono imbiancate. Sospesi voli da e per Pantelleria e Lampedusa. Ma quanto durerà il freddo? Almeno fino a mercoledì quando le temperature si faranno più umidi. 70 tonnellate di alimenti nocivi conservati addirittura tra gli escrementi di topo. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Ragusa. 70 tonnellate di prodotti agroalimentari nocivi conservati in cattivo stato e destinati alla vendita. E' quanto hanno sequestrato le fiamme gialle della tenenza di Pozzallo durante un'operazione congiunta al personale dell'ASP 7, Unità Operativa Igiene di Ragusa. Nello specifico i militari hanno individuato nel comune di Ispica un capannone all'interno di un'azienda agricola in evidente stato di degrado adibito a deposito di alimenti deperibili quali peperoni e melenzane in salamoia, pomodori essiccati, olive conservati in totale assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. I prodotti erano sporchi e maleodoranti. In alcune cassette sono state trovate anche esche per topi e ratti morti. Le analisi di laboratori eseguite a seguito del campionamento hanno confermato l'alta tossicità degli alimenti, rilevando al loro interno una carica microbica ed enterobatterica notevolmente superiore ai limiti consentiti dalla legge. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per le violazioni alla normativa sulla sicurezza alimentare e detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Inoltre gli è stato notificato un provvedimento di chiusura immediata dell'attività esercitata e sono stati addebitati tutti gli oneri connessi alla distribuzione dei prodotti. Il comune di Altavilla Milici ha conferito la cittadinanza onoraria Pino Maniaci, direttore di Teleiato, per il suo impegno contro la mafia. Ricevere una cittadinanza onoraria è sempre un momento particolare, un momento molto bello, specialmente quando uno riesce anche a rompere quello che è il nemo profeta in patria. Guarda, credo che sia la prima cittadinanza onoraria che ricevo in Sicilia, mentre già tanti altri riconoscimenti l'ho avuto al nord. Ovviamente colgo l'occasione per ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale e il consiglio per questo riconoscimento che per me e soprattutto per l'emittente Teleiato, io continuo a ripetere ovviamente non Pino Maniaci, ma l'emittente Teleiato nel suo insieme fa informazione nel territorio e fa semplicemente quello che dovrebbero fare tutti. Comunque grazie. Il nostro impegno contro la mafia e il malaffare, al di là delle vicissitudini che abbiamo dovuto subire, è chiaro e lo dimostrano le carte e anche le sentenze. Quest'oggi stiamo conferendo alla cittadinanza onoraria un esempio sicuramente di legalità di personaggio contro la mafia, di libera informazione come quella che fa Tele One. Oggi a Pino Maniaci sarà conferita la cittadinanza onoraria per tutto quello che è riuscito a far emergere e dalla mafia e delle istituzioni malate, perché tutte e due le cose vanno a braccetto, perché questa società ha bisogno di buoni esempi e noi lo facciamo. Martedì 19, riscossione Sicilia, il presidente Antonio Fiumefreddo ha dichiarato guerra. Tutti i numeri della riscossione delle tasse nell'isola sono disarmanti. Antonio Fiumefreddo, presidente di riscossione Sicilia, sta letteralmente dichiarando guerra a tutti. Un modo forse anche per rispondere alle polemiche in merito all'inefficienza della società, che è l'unico esattore al mondo che rischia la chiusura per i troppi debiti. Recentemente riscossione ha reso pubblica la lista dei 60 parlamentari siciliani, su 90 dell'Ars, che hanno pendenze con il fisco, da pochi centesimi fino ad oltre 50.000 euro. Ma i numeri della riscossione delle tasse in Sicilia sono ancora più disarmanti. Ci sono ogni anno 5,7 miliardi di tasse riscuotibili. La raccolta si ferma però neanche ad un decimo, cioè 470 milioni, l'8%. L'azienda dunque è perennemente in perdita e quest'anno ha maturato debiti per oltre 14 milioni di euro. Per non parlare dei costi, la sede di Catania costa 72.000 euro al mese, quella di Ragusa 35.000, quella di Siracusa 30.000, 13.000 contribuenti devono allo Stato più di 500.000 euro. Nel 2015 sono state sequestrate 3.200 auto di lusso, Rolls-Royce, Ferrari e non solo, 119 Porsche, 49 Jaguar, 17 Maserati, 3 Cadillac, un Aston Martin e 4 Hammer. Scorrendo l'elenco anche un jet privato e barche da 6-7 milioni di euro. E alcuni deputati regionali finiti nel mirino di riscossione Sicilia si difendono dalle accuse di fiume freddo. Ci ha messo all'agonia inutilmente le interviste. Visto che c'è il metodo dell'agonia, vorrei ricordare che in base a questo metodo che ha inaugurato fiume freddo, e cioè chi ha un'indennità pubblica, una lauta indennità addetto, deve pagare subito. Ora mi spiego com'è che il Presidente della Regione ha ancora un debito presso riscossione Sicilia, una rateizzazione, e com'è che lui ha una rateizzazione in riscossione Sicilia. Ma quello che è accaduto sembrerebbe, cioè ha i contorni praticamente di un attacco che il Palazzo, la casta, quella dei partiti, ha fatto nei confronti del Presidente della riscossione Sicilia e che in cambio ha restituito con la stessa moneta praticamente una palata di infamia nei confronti di chi aveva debiti. Noi che come Movimento 5 Stelle facciamo la parte dei cittadini all'interno delle istituzioni, abbiamo visto dall'una e dall'altra parte secondo noi un comportamento davvero grottesco. I cittadini che rateizzano sono cittadini che rispetto la legge. Io come moltissimi cittadini ho rateizzato e pago regolarmente ogni mese 361 euro. Noi non abbiamo pignorato i parlamentari che rateizzavano perché non avremmo potuto, quelli sono cittadini in regola. Noi abbiamo avviato il riuscito di pignoramento nei confronti dei parlamentari che non pagavano. Il ricatto, cioè io non sto chiedendo soldi per me, sto rappresentando all'Assemblea regionale che questa società decidano loro cosa farne intanto perché non sono io il legislatore, no? È chiaro. Però voglio dire, questa società ha portato disastrata per come è stata, ha portato alla regione mezzo miliardo di euro l'anno. Allora, andarla a sbendere a qualcuno a me sembra una cosa che non tenga conto della realtà. Rifiuti al termine di un vertice trovato l'accordo per riaprire la discarica di Siculiana a 48 comuni della provincia di Palermo. Da ieri pomeriggio 48 comuni della provincia di Palermo possono portare nuovamente rifiuti nella discarica di Siculiana gestita dalla Catanzaro Costruzioni che nei giorni scorsi aveva fatto sapere di non poter accogliere maggiore quantità di rifiuti per ragioni ambientali e di sicurezza. Come invece indicato da un'ordinanza della regione. E quanto è emerso nel corso del vertice convocato dall'assessore regionale all'energia Vania Contrafatto con i vertici e la società dopo le proteste dei sindaci e dei comuni. La riunione ha avuto esito positivo ha detto la Contrafatto e di questo non possiamo che essere soddisfatti. Indiremmo entro una decina di giorni una conferenza di servizi con gli organi di controllo per valutare le condizioni dell'impianto e la capacità di ricezione dei conferimenti. Ma per il presidente di Anci Sicilia Leo Luca Orlando è inaccettabile che le imprese private che in Sicilia gestiscono le discariche continuino a tenere in scacco i comuni condizionando negativamente la vita dei nostri concittadini. L'Anci Sicilia già da tempo denuncia lo stato di calamità istituzionale in cui versa la regione siciliana continua Orlando stigmatizzando la difficile condizione con la quale si trovano costretti a confrontarsi gli amministratori siciliani in alcuni settori vitali per la vita e la salute di intere comunità come quella dei rifiuti. È necessario un intervento urgente che ponga fine alle eterne liquidazioni degli ato e che avviene il più breve tempo possibile la riforma del sistema integrato dei rifiuti. Mercoledì 20 gennaio la frase dello scandalo su Lucia Borsellino non esiste. La procura di Palermo chiude l'indagine sulla presunta telefonata fra Matteo Tutino e Rosario Crocetta riportato in un articolo dell'Espresso. Quella frase ingiuriosa contro Lucia Borsellino non esiste. I pubblici ministeri adesso se ne dicono certi. Matteo Tutino non disse a Rosario Crocetta che l'allora assessore regionale alla sanità andava fatta fuori come suo padre. Semmai, come ha riferito un investigatore, il medico talvolta si augurava che venisse fatta fuori dall'incarico ricoperto e non certamente dal punto di vista fisico. La Procura della Repubblica dunque ha deciso di chiudere l'inchiesta a carico dei giornalisti dell'Espresso Piero Messina e Maurizio Zoppi accusati di calunni e pubblicazione di notizie false. Presto ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio e il fascicolo passerà al vaglio del giudice per l'udienza preliminare. Per questa vicenda il governatore siciliano Crocetta ha anche annunciato una richiesta milionaria di risarcimento danni. Tutto è iniziato il 16 luglio scorso quando il sito online del settimanale ha anticipato la notizia che in pochi minuti ha fatto il giro d'Italia tanto da scomodare persino il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Matteo Renzi pronti ad esprimere solidarietà all'assessore regionale figlia del giudice ucciso dalla mafia. Tutino primario del reparto di chirurgia plastica di Villa Sofia è stato sospeso in via cautelare. La decisione è stata presa dall'ospedale dopo che il GIP di Palermo aveva revocato gli arresti domiciliari disposti a giugno nei confronti del primario accusato di truffa peculato e falso. Con grande ritardo il Governo regionale ha aggiornato il piano rifiuti ma il Governo Renzi avrebbe già deciso invierà un commissario e costruirà due mega inceneritori. Il Governo Crocetta ha aggiornato nel corso della riunione di giunta il piano rifiuti come richiesto dal Governo nazionale. Il documento sarà inviato a Roma per rispondere alla diffida avanzata in agosto dal Governo Renzi che preannunciava un commissariamento ormai inevitabile. Il testo esitato alla giunta prevede il superamento della vecchia discarica e la creazione di nuove piattaforme integrate. Saranno quattro le nuove strutture che verranno create a Gela, Caltanissetta e Nm e Sina. Le cinque attuali discariche classiche stanno adeguandosi costruendo i nuovi impianti di trattamento. Intanto all'assessorato all'energia guidato da Vania e contrafatto stanno lavorando ad un disegno di legge che potrebbe essere portato in giunta già la prossima settimana. Un testo che dovrebbe rispondere con notevole ritardo ai rilevi del Governo centrale. Altro punto focale è la raccolta differenziata. Per accelerarla il Governo Crocetta ha previsto in finanziaria la cosiddetta ecotassa, penalizzazione economica per quei comuni che non rispetteranno alcuni step di differenziata. Una decisione fortemente criticata dai sindaci e dalle opposizioni. Ma considerato che finora la Sicilia è stata la terra delle intenzioni, il Governo centrale manderà un commissario e realizzerà due mega inceneritori. A Palermo via Americo Amari chiude per 11 mesi nel tratto fra via Crispi e via Scordia per scavare il tunnel dell'anello ferroviario. Niente auto fino al 20 dicembre. Riparto nei lavori dell'anello ferroviario scatta la chiusura al traffico di via Amari. Dalle 7 di questa mattina la strada che unisce il porto con Piazza Castelnuovo sarà off-limits nel tratto compreso tra il porto via Crispi Esclusa e via Principe di Scordia. Un'opera da 154 milioni che consentirà di costruire le fermate Porto, Politeama e Lazio e che si sta svolgendo in contemporanea in più punti della città. Il cantiere più contestato però è sicuramente quello di via Amari. Sinora la Tecnis si è occupata dello spostamento dei sottoservizi ma adesso i lavori entreranno nel vivo con lo scavo della Galleria Sotterranea. Un'operazione talmente invasiva da costringere alla chiusura dell'intero tratto di strada e non più della semplice semicarreggiata. I disagi si annunciano pesantissimi per residenti e commercianti e per questo il Comune di Palermo ha chiesto prima garanzie precise. La Tecnis ha rassicurato Palazzo delle Aquile la settimana scorsa. L'anello resta un'opera strategica per l'azienda che investirà risorse e mezzi per rispettare gli impegni presi. Questa prima fase del cantiere di via Amari stando all'ordinanza si concluderà il 20 dicembre del 2016. Fino ad allora la chiusura totale riguarderà il tratto Crispi Scordia e il tratto Belmonte Amari di via La Masa. Giovedì 21 gennaio è nuovamente sciolto per infiltrazioni mafiosi il Comune di Altavilla Milice e il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza emessa dal Tar lo scorso 27 luglio. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar che era stata emessa lo scorso 27 luglio ed il Comune di Altavilla Milice è stato nuovamente sciolto per infiltrazioni mafiose. L'amministrazione aveva impugnato il decreto del Presidente della Repubblica emesso l'11 febbraio del 2014 con il quale il Comune era stato sciolto appunto per presunte infiltrazioni mafiose. Il Sindaco Nino Parisi si era quindi rivolto al Tar che lo scorso luglio gli aveva dato ragione. Ieri è arrivata la sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza si sottolinea che il Tar sosteneva che le infiltrazioni mafiose erano basate sostanzialmente sulle mere dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dichiarazioni oltretutto prive di riscontri fattuali è resa allo Stato nella sola fase delle indagini preliminari. Ma il Consiglio di Stato ha replicato sostenendo che il grave quadro indiziario che ha condotto allo scioglimento del Consiglio Comunale si fonda anzitutto sulle risultanze dell'operazione Argo come ha ben messo in rilievo la relazione prefettizia e sulla lettura delle intercettazioni che rivelano un intreccio di conoscenze e di interessi dagli esponenti e la mafia locali e l'amministrazione comunale ben radicato. Ha fatto tappa a Palermo la campagna di presentazione della Carta dei Diritti Universali del Lavoro a presentare i contenuti del nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori oggetto di un progetto di legge nazionale di iniziativa popolare promosso dalla CGL e leader nazionale del sindacato Susanna Camusso Non c'è dubbio che lo scopo il fondamento della scelta della nostra iniziativa di costruire una carta dei diritti universali del lavoro parte dai temi dell'occupazione e dal riconoscimento del lavoro e dove maggiori sono le difficoltà e dove maggiori sono determinate le diseguaglianze maggiore bisogno ce n'è poi insieme al tema della definizione dei nuovi diritti universali e del valore del lavoro e qui ci sono anche importanti e significative vertenze aperte che parlano non solo della ricostruzione di un quadro dei diritti ma dell'urgenza che ci siano delle politiche industriali che rispondano alla qualità e al mantenimento del nostro sistema industriale e su Almaviva abbiamo un problema che è la storia della complicata trasformazione in investimenti veri e propri del call center ma è anche la denuncia di comportamenti delle grandi imprese e quindi anche di chi delle grandi imprese si dovrebbe occupare partecipandole come il governo che continuano a fare gare al massimo ribasso mettendo a rischio la condizione dei lavoratori o cambiando in corsa le regole degli ammortizzatori con il risultato che accordi anche da loro sottoscritti diventano inapplicabili cioè siamo esattamente dentro un caso in cui si sente l'assenza di scelte di difesa e di investimento sull'occupazione da parte del governo che evidentemente è solo occupato a parlare di licenziamenti Blizz Antimafia Catania e Santa Paola Ercolano facevano affari anche nel recupero crediti sequestrate società impianti sportivi parcheggi e uno stabilimento balneare 16 le misure cautelari a Catania il clano mafioso Santa Paola Ercolano non trascurava nessun settore faceva affari anche con il recupero crediti gestiva i capitali illeciti e per conto di terze persone aiutava a riscuotere le somme di denaro data in prestito lo ha scoperto la squadra mobile della questura etnea che ha dato esecuzione su delega della procura distrettuale ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari e reali nei confronti di 16 persone sono tutte ritenute responsabili a vario titolo dei delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso intestazione fittizia di beni e furti con l'aggravante di aver agito avvalendosi del metodo mafioso il clan si era specializzato nel fenomeno del recupero crediti che rappresentava una recente forma di criminalità in cui il privato creditore trovava più semplice il ricorso a terze persone di risaputa e notoria caratura criminale nel corso dell'operazione sono state sequestrate società che gestiscono impianti sportivi attività di ristorazione parcheggi ed autolavaggi nonché uno stabilimento balneare per un valore complessivo di alcuni milioni di euro venerdì 22 gennaio petrolchimico Eni di Gela la preoccupazione dei sindacati dopo l'incontro per il modo in cui la regione sta gestendo la difficile situazione petrolchimico di Gela CGL e CISDW non possono che manifestare rammarico e per certi versi ancora più preoccupazioni per i concetti espressi dal governo regionale il presidente Crocetta ha affermato che comprende le ragioni dei presidi e nel frattempo dichiara che dipende tutto dal governo nazionale e nel merito dal ministero del lavoro incredibile ma vero rimarcano i sindacati tutto questo accade mentre la tensione a Gela non ha precedenti la protesta continua ed in modo chiaro CGL e CISDW rivendicano il diritto ad avere una data dal governo Renzi per affrontare e definire il presente di un'intera popolazione e con essa quella dei comuni limitrofi la politica si assuma le responsabilità dando al territorio risposte concrete attraverso strumenti straordinari e derogatori a ogni legge la politica sappia che ogni giorno è un danno in più al mondo del lavoro ed a un'intera popolazione i sindacati chiedono che l'Eni anticipi i cantieri così da dare occupazione a centinaia di lavoratori per se è chiaro a tutti che l'Eni sta scappando da Gela dismettendo i suoi impianti produttivi non procedendo alle indispensabili bonifiche cercando di non risarcire il devastante danno ambientale e sanitario che ha provocato in questi anni e chiede un serio progetto di riqualificazione produttiva ed ambientale del comprensorio di Gela adeguatamente finanziato e che abbia al centro la salvaguardia dei posti di lavoro e la salute dei suoi abitanti spuntano nuovi elementi nell'indagine sulla scomparsa di Antonio e Stefano Maiorana scomparsi appunto a Palermo nell'agosto del 2007 trovate nelle campagne di Villa Grazia di Carini una suola di scarpe e un sacco macchiato di rosso potrebbe essere ad una svolta l'indagine sulla scomparsa degli imprenditori Antonio e Stefano Maiorana padre e figlio spariti nel nulla a Palermo il 3 agosto del 2007 gli investigatori hanno ritrovato nel corso di alcuni scavi una scarpa estremamente deteriorata ed un sacco con alcune macchie rosse presumibilmente tracce di sangue adesso sottoposti all'esame del RIS erano ricoperti da uno spesso strato di materiale solitamente utilizzato nell'edilizia i reperti verranno sottoposti ad indagini biologiche e si cercherà di capire se presentino tracce di acido o di combustione dal 2007 si sono battute diverse piste da quella mafiosa a quella di contrasti nati nell'ambiente di lavoro fino ad ora però nessun input è risultato decisivo per far luce sulla loro scomparsa adesso dopo tanti anni potrebbe esserci qualche elemento nuovo nell'inchiesta il ritrovamento sarebbe avvenuto a fine luglio nell'ennesima campagna di scavi avviata in un terreno di Villa Grazia di Carini dai Carabinieri in seguito alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia le ultime tracce dei Majorana si persero nei pressi del parcheggio dell'aeroporto di Palermo lì fu ritrovata la loro auto ma di loro salvo alcune testimonianze che sembrarono indicare la presenza a Barcellona e Spagna l'anno dopo non è mai stata ritrovata alcuna traccia dopo un giorno di riflessione il sindaco di Altavilla Milicia parla della sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato quella del Tarlazio e che ha disposto nuovamente lo scioglimento del Comune ascoltiamo Nino Parisi Devo dire che lo Stato non poteva contraddire se stesso è chiaro che sono il sindaco ero il sindaco di un piccolo paese del territorio del Palermitano dove è facile dire pregnato di mafia e quant'altro e quindi è stato anche un modo semplice per arrivare all'obiettivo perché d'altra parte a Roma non è successo niente nella regione Lombardia non è successo niente noi abbiamo la fortuna di essere apprezzati dalla cittadinanza le elezioni che si sono svolte liberamente contrariamente a quello che dice la sentenza hanno dimostrato che abbiamo dato uno scarto al mio antagonista di oltre mille voti e mille voti non possono essere frutti di una manipolazione tra le altre cose le persone che loro dicono e che loro parlano frequentazione e parentele le parentele le dà Dio e non le può togliere nessuno nemmeno dico uno può in un piccolo centro sono noi ma guardi io quando ero piccolo questo paese era formato da 3.000 abitanti io conosco tutti ho sempre conosciuto tutti conosco anche tutti gli altri voglio bene a tutti e non mi interessa niente non possono condizionare le scelte delle mie frequentazioni l'importante è che io svolga la mia vita in maniera retta e desidero anche affermarlo questo qua io provengo da una famiglia che non ha mai avuto un pregiudicato né dalla parte della materna né da parte paterna eppure stranamente le investigazioni su di me cominciano esattamente nel 2011 ancora prima che compongo la lista per poi finire con come è finita quindi è chiaro che c'era l'evidente dimostrazione che Nino Paresi non poteva non doveva assolutamente fare il sindaco di Altavilla se me l'avessero detto prima avrei risparmato questo dispiacere ai miei concittadini anche ai miei consiglieri agli assessori ma dovevano dirlo e poi persone che in un bel momento storico erano degli incensurati che avevano rapporti anche con le istituzioni e le forze dell'ordine rapporti forti che poi mi si vengono addebitati come condizionanti per la mia attività questo non lo accetto che io non sono stato mai condizionato da nessuno e non riesce a condizionarmi nemmeno allo Stato tant'è vero che sono tranquillo perché sono perfettamente di essere una persona leale onesta e che ha dimostrato di lavorare per il Paese e tutto quello che abbiamo fatto non è stato poco allora intanto i miei legali stanno valutando e ci sono gli estremi per la revocazione che è fatto in una maniera così approssimativa con la sentenza che non merita nemmeno di essere letta se proprio cittadinanza se io l'ho letta ed ero strabiliato addirittura un pseudo collaboratore che dice mille volte che io non sapevo che fosse mafioso viene preso come persona attendibile solo perché dice altre cose quindi dico traiamo le nostre conseguenze viviamo in uno Stato davvero malato che a seconda di come tu ti poni con le stesse azioni puoi diventare uno che dà parvenza di legalità o uno antimafioso d'eccellenza grazie per essere stati con noi a tutti una buona domenica arrivederci grazie per la visione